Ciao Andrea, vuoi presentarti ai nostri clienti o futuri clienti? Sì, ciao a tutti, io sono Andrea Bannieri, lo chef del ristorante Bugavino e gestisco questo ristorante insieme a mia sorella, Francesca Romana. Come hai conosciuto Carreri e da quanto ci collabori? Allora, ho conosciuto Carreri, ho conosciuto Matteo durante la trasmissione di visiva Chef in Campo che abbiamo fatto insieme quest'anno, dove lui era il sommelier e presenta poi i suoi vini, dalla sono rimasto interessato e affascinato nel suo modo che aveva di presentare appunto i suoi prodotti, quindi poi abbiamo approfondito e ora mi fornisce. Il nostro servizio ha migliorato il vostro lavoro, se sì, in che modo? Beh, lui è stato tempestivo quando abbiamo deciso di fare anche le operazioni qui da noi, soprattutto nel periodo Covid, e dico tempestivo perché in brevissimo tempo mi ha fatto avere una macchina con un caffè fantastico che tutti i miei clienti hanno apprezzato, quindi insomma sì, mi ha migliorato sicuramente per quanto riguarda il caffè ma anche per quanto riguarda i vini, con le sue chicche. Se dovessi consigliarci ad un amico, quali parole utilizzeresti? Ma direi, grande efficienza, grandi prodotti, niente, che dire di più in questo punto, grande simpatia anche dello staff, ma diciamo che sì, anche questo, però fondamentalmente se dovessi parlare, se dovessi esprirmi solamente sulla professionalità, direi molto professionali, quindi tempestivi e di grande qualità, questo sicuramente. Grazie mille per questa intervista e noi tanto ci vediamo presto, un abbraccio. Grazie a te, a presto. Ciao. Ciao.